I ringraziamenti devono essere fatti per un servizio contigo, perché quando si fanno delle cose è meglio farle più in realtà. Questa è la soddisfazione più grande che adesso noi andiamo, grazie a tutti voi, avete visto queste cose belle che abbiamo fatto, bene, vi dirò voi però, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.